Ah no! Arbitro però! Guarda! Pronto? Occhio al centro! Occhio eh! Bravi! Abbiamo letto lo schema! Grande! Avete visto? Bravissimo! Brava Lori! Luca! Sì sì! Gioca! Gioca! Bravo! Vattiti in due! Vattiti! Vattiti in là! Vattiti in là! Vattiti in là! Vattiti in là! Ragazzi non fatti parte! Arrivati! 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 Vattiti! Bravi! Bravo! Dai che non freddi! Dietro! Chi si stisce? Grande neighborata! È tu! Dai 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 dai! Dai che è spaglia! Chi si stisce? Bravo! Chi si stisce? Chi si stisce? Chi va in mezzo? Piede a martello, la prossima volta ti ammonisco Davanti alla palla, davanti alla palla Fermi così eh, fermi Portiere, ci sei? No, la prossima da più c'è 3 per più c'è la cartella Da qua, da qua Grazie Vai Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì E lo cifro Prendilo, prendilo Sì, sì, sì Vede, vede, vede Vede, vede Sì, vede Bravo, Vazquez Sì, vede Va, va Cosa è sta roba? Datevi la mano, datevi la mano Datevi la mano Sì, vede Sì, vede Bravo Dai è il mio due prima popolo grazie bravo va bene bravo